Buonasera a tutti, oggi parleremo della crisi dell'ordinamento carolingio, dello sviluppo dei rapporti feudali e del sistema curtenza. Allora, il feudalesimo è l'organizzazione politica sociale ed economica dell'Europa medievale, che affonda le sue radici nella struttura politica creata da Carlo Magno per controllare e amministrare i suoi vasti possedimenti, servendosi di una schiera di fiduciari subalterno. Il sovrano, quindi Carlo Magno, per controllare i suoi vastissimi possedimenti, si serviva e delegava ai più alti, ai più importanti rappresentanti dell'elite militare e quindi fedoterilaici e ecclesiastici, quindi fedoteri ecclesiastici, abbati e vescovi, il compito di governare, controllare, amministrare in suo nome i possedimenti loro attribuiti a titolo però vitalizio, gratuito e temporaneo. Il compito quindi di difendere il territorio e di rappresentare i suoi abitanti, di difendere il territorio e gli abitanti, venne assunto dai signori locali, ai quali, in cambio di un beneficio di un feudo concesso a titolo temporaneo, gratuito e vitalizio, era imposto il vincolo di fedeltà e di servizio militare al sovrano. Questo era il cosiddetto sistema vassallatico. Quindi il vassallaggio è un rapporto che è stato instaurato tra un signore, che può essere il sovrano, e dei vassalli, che possono essere dei feudatari o dei vassalli minori, come i valvassini e i valvassori. È un rapporto contrattuale tra queste due persone. I grandi vassalli del sovrano erano ecclesiastici, quindi vescovi, duchi, conti e marchesi. Questi grandi ecclesiastici a loro volta diedero vita ad un insieme, ad un folto gruppo di vassalli, a loro dipendenti. Quindi dietero vita a una clientela personale, a un folto gruppo di vassalli minori e loro dipendenti, detto valvassori. Stessa cosa fecero i valvassori, che si circondarono di vassalli a loro dipendenti, quindi si circondavano di collaboratori vincolanti al loro servizio e in tal modo si sviluppò la struttura del sistema feudale. Questa è un'introduzione necessaria. Tra il X e l'X secolo, tra il IX e il X secolo, stiamo parlando infatti del IX, dell'Ottocento, quando si creò l'impero carolingio e il secolo immediatamente successivo, l'Europa aveva riconosciuto un momento di prosperità durante la nascita dell'impero carolingio. Tuttavia dopo questi secoli era ripiombata nuovamente nell'insicurezza, a causa sia dell'indebolimento del potere centrale, quindi della mancanza di un'autorità centrale in seguito all'indebolimento dell'impero carolingio con i successori di Carlo Magno. Stiamo parlando di Lotario, Carlo e Calvo e Ludovico il Germanico, poi di Ludovico II, di Carlo e Calvo e infine di Carlo e Grosso. Con questi successori di Carlo Magno l'impero carolingio si era indebolito e quindi l'Europa era ripiombata nuovamente in una condizione di insicurezza a causa di una mancanza di un'autorità centrale e in seguito ai sempre più persistenti incursioni degli Ungari, dei Saraceni e dei Normanni che in quel periodo devastavano, spaventerrorizzavano e staccheggiavano quelle che erano le coste dell'Europa occidentale. Questa autorità, questa mancanza di un'autorità centrale che garantisce ordine, protezione, giustizia, difesa del territorio e difesa degli abitanti di quel territorio era dovuta ad una destrutturazione dell'organizzazione dell'impero carolingio, dell'organizzazione reggia carolingia che ovviamente non potendo più dare, non potendo più salvaguardare, difendere il territorio e salvaguardare gli suoi abitanti, nacquero dal basso una serie di richieste, sempre più richieste di difesa del territorio e di protezione dei cittadini che condussero i vassalli a avviare il famoso percorso, il famoso processo di incastellamento. Incastellamento che specificamente significa appunto la costruzione di istituzioni, di manieri, di castelli simbolo appunto del potere dei vassalli, della decentralizzazione politico-territoriale, ma che in senso generale significa appunto indebolimento dell'autorità centrale e rafforzamento di quella che erano l'autorità dei poteri particolaristici, cioè dei vassalli. Quindi con il tempo, a causa della diffusione delle istituzioni vassallatico-beneficiarie tra i signori e i vassalli successivamente dipendenti e non tra sovrano e vassalli, a causa del prorompere dal basso di poteri locali che garantissero ordine, difesa e protezione al territorio e agli abitanti in seguito all'indebolimento dell'autorità centrale e insieme alla volontà da parte di alcuni feudatari, le ambizioni da parte di alcuni feudatari di dominio, in Acquero fondamentalmente i feudatari si resero sempre più indipendenti dal sovrano, trattando le terre e considerandosi proprietari di quelle terre ricevute in beneficio e per questo liberi di concederli in eredità. I successori, perciò i successori di Carlo Magno, per assicurarsi quella fedeltà e quel servizio militare che sta alla base del vincolo appunto dei legami vassallatico beneficiari, cominciarono a trattare i vassalli che si stavano allontanando dal potere centrale, non soltanto stavano ovviamente garantendo della difesa e della protezione del territorio e degli abitanti, difesa e protezione che l'autorità centrale non poteva ovviamente garantire e perché ovviamente avevano sempre più desiderio di dominio e quindi si consideravano proprietà, cosa successe? Questi grandi feudatari si allontanavano e per assicurarsi la fedeltà e il vincolo militare di questi feudatari in caso di conflitto, i sovrani e i successori di Carlo Magno cominciarono a dispensare questi vassalli dai loro obblighi, concedendo quelli che erano immunità e privilegi. Quindi l'istituto del feudo è completo quando esistono tre elementi costitutivi, il beneficio che è l'elemento economico, il vassallaggio che è l'elemento etico-sociale e l'immunità che è l'elemento politico e sebbene questi tre elementi percorrono strade autonome vanno a ricongiungersi, riescono a ricongiungersi nella fase finale nell'epoca di decadenza dell'impero carolingio. Ora parliamo di questi tre elementi costitutivi dell'istituto del feudo. Il vassallaggio, l'elemento ovviamente economico, il beneficio e il vassallaggio, elementi rispettivamente economico ed etico-sociale. Il vassallaggio abbiamo detto che è un rapporto contrattuale tra un signore e un vassallo, dove il signore che può essere un sovrano o può essere un grande feudatario, dà in beneficio un feudo ad un vassallo. Questo beneficio è dato a titolo vitalizio, gratuito, temporaneo e non è ereditario in un primo momento. In cambio il vassallo deve essere vincolato al sovrano o al signore da vincoli di fedeltà personale e deve dare, deve garantire un servizio militare in caso di conflitto. Se non si rispetta questo vincolo, se non si rispetta questo istituto del vassallaggio, questo vassallaggio, cioè questo rapporto contrattuale, si cade nel delitto di fellonia, che è il più grande che si possa commettere. Quindi in cambio della fedeltà personale del servizio maletare militare, un signore, il signore conferisce al vassallo un beneficio. La cerimonia si chiama investitura e con essa il signore cede al vassallo, il signore sovrano cede al vassallo, che possono essere i grandi feudatari maggiori, un beneficio, cioè un feudo a titolo vitalizio, gratuito e temporaneo, ed è in uso, non in proprietà, e quindi è revocabile. Questo istituto del feudo, quindi questo beneficio, è in proporzione alla fedeltà e al servizio militare che il vassallo ha nei confronti degli obblighi di servizio militare e di fedeltà che il vassallo ha nei confronti del sovrano. Per immunità, che è il terzo elemento dell'istituto del feudo, si intende invece l'esenzione dagli oneri pubblici, ovvero dall'immunità tributaria fiscale, cioè esenzione dall'obbligo, esenzione dai vassalli nel fare riscuotere delle tasse, dei tributi ai funzionari reggi, quindi del sovrano o ai funzionari del signore o del signore stesso. Può essere un'esenzione militare, cioè di vieto, precade l'obbligo del vassallo di garantire il servizio militare al signore in caso di conflitto, o esenzione giurisdizionale, cioè di vieto da parte del signore e dei suoi funzionari di esercitare la giurisdizione nel territorio, nel feudo, nel beneficio del vassallo. Le immunità quindi possono essere militari, fiscali, militari e giurisdizionali, quindi le immunità possono riguardare quelle che erano le prerogative regali, che prima erano prerogative, poteri, reggi, che erano quindi di pertinenza del sovrano e che in seguito quindi al proliferare all'indebolimento del potere reggio, al fatto che i signori e i vassalli cominciavano, i grandi feudatari e i vassalli cominciavano a comportarsi come se fossero proprietari di quelle terre e per questo liberi di concedere le energetà, per obbligarli, per avere ancora il sovrano e i vincoli di fedeltà e un servizio militare da parte del vassallo, cominciava a cedere queste esenzioni a degli oneri pubblici, queste prerogative, queste esenzioni, queste immunità, che possono riguardare, come abbiamo visto, anche carattere tributario, militare e giurisdizionale, sono prerogative regge, che erano di pertinenza appunto regge. Questo è molto importante. Si verifica quindi un processo di indebolimento del potere reggio, lo ripeto, è una frammentazione del potere. I vincoli fra il sovrano e il signore, quindi grandi e piccoli, fra il sovrano e i signori diventano sempre più fragili, mentre si consolidano quelli diretti e personali fra i signori e gli immediati dipendenti. L'apice di questo processo di indebolimento del reggio, di concessione di immunità e privilegi, di frammentazione del potere politico territoriale, raggiunse il suo apice con il capitolare di Chersì, promulgato da Carlo Il Calvo nell'877, che riconosce la realtà dei feudi maggiori. È la realtà che viene diffusa, che riguarda anche i feudi minori, con il Costituzio dei feudis del 1037, promulgato da Corrado secondo il Salico. Quindi con la dissoluzione dell'impero carolingio abbiamo un indebolimento del potere reggio, quindi dell'autorità centrale. Questo provoca una richiesta sempre più ingente, una richiesta sempre più urgente di difesa del territorio e di protezione degli abitanti dal basso e questo porta i feudatari a costruire all'incastellamento, a costruire fortificazioni, a considerarsi proprietari di quelle terre e per questo liberi di concedere l'innerità. I signori, per mettere un freno a questo processo di indebolimento, diffondono, esentono da oneri pubblici, elargendo immunità e privilegi, indebolendo ancora di più quello che è il potere reggio, creando e generando una frammentazione politico e territoriale del potere, che prima era un potere centrale, e questo causa fondamentalmente quella che è il proliferarsi di istituzioni passallatico beneficiari e la diffusione vera e propria del feudalesimo. Il sistema più diffuso di gestione dei patrimoni fondiari era il sistema curtense. Il sistema curtense è l'unità produttiva rurale e in esso si possono distinguere una pars dominica da parte del signore feudale, gestita direttamente dal proprietario attraverso il lavoro dei servi, che possono essere prependari se vivono nella casa del proprietario, del signore, del feudatario, o casati, se hanno una casa, un pezzo di terra e una famiglia. E la parte dei coloni, detta pars, massariscia, suddivisa in piccoli lotti, manzi, ciascun manzo affidato ad una famiglia di coloni, che dovevano pagare al signore un canone in prodotti agricoli o in denaro e in un certo numero di giornate di lavoro gratuito, da svolgere gratuitamente nei poderi padronali, chiamata appunto corvess. Sia sui servi prependari sia su quelli casati è normale che il proprietario signore avesse pieni poteri, esigendo da loro totale obbedienza. Tuttavia, anche se il cristianesimo aveva ammorbidito le condizioni, la durezza delle condizioni degli schiavi nei confronti comunque dei signori e dei proprietari, tuttavia man mano che i funzionari pubblici e reggi e l'autorità centrale dell'impero scompariva, si indeboliva e poi scompariva, cresceva il ruolo dei grandi proprietari fondiari, come protettori dei loro dipendenti e dei piccoli proprietari delle terre circostanti, sui quali fu inevitabile che esercitassero insieme alla protezione anche poteri di giustizia e comando. Avevano quindi autorità di banno, ma questo è un argomento che approfondiremo fra un poco. L'economia del sistema curtense era un'economia di sussistenza, si produceva per se stessi, si produceva per sopravvivere e per vivere, quindi era un'economia basata sull'autosufficienza, sulla sussistenza. Tuttavia la storiografia ha dimostrato l'impossibilità della Curtis di raggiungere l'autosufficienza produttiva, alla quale al massimo potevano aspirare quei pochi signori che avevano ovviamente in proprietà più corti, che erano in possesso di più corti, specializzati in settori produttivi diversi, quali per esempio la lavorazione dei metalli e la produzione di tessuti. Quindi, sebbene non si produceva direttamente per il mercato, sul mercato si vendevano, si compravano quello che in loco non si produceva poco, non si produceva affatto e la storiografia ha dimostrato la piccola presenza, la sporadica presenza di commerci, di mercati e fiere dove i contadini andavano a comprare quello che non si produceva in loco, quindi quello che non si produceva nella corte, all'interno della corte, la cui unità, appunto la cui sistema di gestione era appunto il sistema curtenze. Per questo commercio era talmente tanto anche i sigo e lo voglio sottolineare che bastavano comunque monete d'argento, le monete d'oro erano totalmente scomparse ed erano completamente sempre più rare. Inoltre la corte dell'alto e la corte del basso medioevo si distinguevano tra di loro. La corte del basso medioevo, la corte dell'alto medioevo era una corte erede senz'altro della villa romana, quindi dominata da un signore che esercitava un potere delegato dal concessore del beneficio, come era successo con l'impero carolindio. Il sistema feudale appoggiava il suoi radici nella struttura politica creata da Carlo Magno per gestire quelli che erano i propri possedimenti utilizzando una schiera di fiduciari subalterni che lui delegava e concedeva un beneficium. La corte dell'arto medioevo e del basso medioevo era invece caratterizzata dalla presenza di un maniero centrale, simbolo della fortificazione e dell'incastellamento, con un signore che esercitava autorità di banno sugli abitanti di quella corte, non soltanto doveva garantire e provvedere alla loro difesa, ma esercitava anche funzioni di comando e di giustizia.